Roberto Lurati, sindaco di Canobbio da più di 20 anni, la mia professione è architetto e nel tempo che mi rimane, o forse anche più che nel tempo che mi rimane, faccio il sindaco a Canobbio. A Canobbio sono state realizzate diverse opere e anche importanti in questo contesto perché il nostro comune è un comune sensibile da decenni al problema del risparmio energetico e al problema ambientale e tra queste opere l'ultima in ordine di tempo completamente realizzata è proprio la Casa Comunale con sistema Mini Energy, si trattava qui evidentemente di convincere e coinvolgere il Consiglio Comunale su un'opera da riattare risalente oramai a più di un secolo e metterla nelle condizioni attuali con il sistema di risparmio energetico il meglio possibile e quindi attraverso il Mini Energy. E siamo riusciti in questo, siamo riusciti bene anche. Ma quando si fanno queste opere come può essere la Casa Comunale o le scuole che stiamo facendo in questo periodo, evidentemente il valore aggiuntivo, a mio modo di vedere, più importante è quello di coinvolgere la popolazione in progetti che guardano al futuro. Coinvolgendo la popolazione in questi progetti che guardano al futuro, automaticamente c'è una nuova sensibilizzazione della gente, i quali anche nelle loro abitazioni, i quali anche nei loro progetti, si sforza di andare in questo senso. Questo è il valore aggiuntivo maggiore, a mio modo di vedere, che si dà con l'esempio delle opere pubbliche, le opere comunali. Sicuramente il Comune ha avuto un ruolo principale e un ruolo anche trainante, perché in definitiva sappiamo che è il politico che sceglie il tipo di progetto e quindi è il politico che deve avere le intuizioni dapprima e le vedute giuste per poter portarsi avanti. Quindi il ruolo del Comune, del Municipio in particolare, è stato un ruolo veramente principale e trainante in tutto questo progetto, determinando proprio le scelte di tipo ambientale e di tipo ecologico. Ma i fattori di successo evidentemente sono legati intanto al discorso e all'obiettivo che si vuole ottenere, quindi risparmio energetico, minor consumi, sensibilizzazione della gente. Ma poi anche il valore di un progetto di questo tipo è di esempio, a mio modo di vedere, per altri comuni, per altri enti locali che vogliono evidentemente essere sensibili su determinati progetti che portano poi alla fine anche quel valore aggiunto che è la qualità di vita che il politico dovrebbe sempre cercare. Sì, io posso consigliare che è estremamente importante coinvolgere le diverse istanze politiche e partitiche. Quindi il discorso non deve essere racchiuso all'interno di un partito, ma deve essere aperto a tutte le istanze partite e politiche e poi determinati messaggi devono arrivare fino alla popolazione. Se vogliamo riuscire in questi obiettivi bisogna assolutamente, in modo trasversale, arrivare a tutti. Poi, come sempre, qualcuno accetterà subito, qualcuno accetterà dopo, qualcuno non accetterà. Ma un discorso di massima trasparenza, a mio modo di vedere, è determinante per riuscire in queste operazioni. Quindi consiglierei agli altri comuni di far sempre partecipare la gente, con commissioni nei partiti. Questo è estremamente importante. Grazie. Prego.